Buongiorno Duncan, da questa parte. Edward! Ehi là Edward! Ho trovato a chi vendere lo zucchero rimasto! Gran bel colpo, devo dire! Vi ha chiamato Edward? Oh, è il mercante che mi ha portato qui. Per sicurezza ho dato un nome falso. Ah, ben fatto. Arrivederci, Bonnet. A presto. Siete puntuali, Duncan. Per di qua. Eccolo qui. L'uomo che templari e assassini bramano da più di dieci anni. Dicono che vi chiamate Roberts. È così? Sapete che cos'è, vero? Stando alle leggende serve il sangue di un saggio per entrare nell'osservatorio. Abbiamo la chiave. Ci serve solo la posizione. Forse il signor Roberts sarà felice di farmi già. Portatelo alla mia dimora. Tutto questo per un solo uomo? L'osservatorio è davvero così importante? Sì. L'osservatorio è stato costruito dai precursori. Il suo valore è inestimabile. Dai precursori? Capisco. In una vostra lettera avete manifestato il desiderio di uccidere il mentore Maya a Tavagli. Ci siete forse riusciti mentre venivate qui? Io... non ancora, no. Troppi... incidenti di percorso. Peccato. Ma le mappe consegnate con questa fiala si estimeranno tutto. Già. L'idea è quella. Non mi piace affatto, Torres. Siamo esposti. Qualcosa non va. Attento, Gran Maestro. Dite bene. Non devono mettere le loro mani sul saggio in nessun caso. Assassini! Lasciù! Sono sopra i detti! Perciò la volta è l'unica punto. A me. Controllate strade e vicoli. Cercate ovunque. Perciò la volta è l'unica punto. Perciò la volta è l'unica punto. Fatelo! Sei un tipo sveglio, te lo concedo! Perché devi rendere tutto più difficile, amico? Fermo, o ti spacco le gambe! Fermo, 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 fermo! Fermo, fermo, fermo! Fermo, fermo, fermo! Fermo, 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 fermo! Fermo, fermo, fermo! Raddoppiate le guardie. Che io sia maledetto. Che giornata intensa, amici. Sì, siamo circondati dai nemici. Dobbiamo essere più cauti. Speravo di assistere all'ultimo atto del dramma, ma devo approfittare di questi venti e tornare in patria. Più che giusto, capitano. Buona fortuna a voi. Speriamo. Potrei tornare da governatore. E insignito da quell'idiota del re, peraltro. Adios. Quanto a voi, signor Walpole, considero questa la prima tranche di un proficuo investimento. Grazie. Vi ringrazio. Vorrei che presenziaste all'interrogatorio domani. Diciamo a mezzodì. Sì, signore. Sì, signore. Grazie a tutti.